questa è la settimana dell'anno quella del festival di sanremo in cui ci scopriamo tutti i grandi appassionati di musica ma la musica è molto più che una gara tra canzoni è una compagna di vita è un rifugio dalle sofferenze è uno specchio dei cambiamenti nella società è uno strumento di libertà e non è un caso che in certi paesi del mondo la musica sia addirittura proibita today sabato alle 15 e 15